Belen Rodriguez e Chiara Ferragni non hanno ottimi rapporti, non si seguono su Instagram e non si filano tra di loro. Oggi però Belen fa un grande gesto di avvicinamento scrivendo un lungo messaggio proprio a favore dell'influencer che vi leggeremo a breve. Un messaggio in cui Belen in sostanza dice basta la violenza verbale facendo riferimento a tutto quello che sta piovendo addosso alla Ferragni e dice bisogna perdonare e superare tutti possiamo sbagliare ma possiamo rimediare e ricominciare. C'è però una differenza tra Belen e Chiara Ferragni nel senso una grande differenza nel senso che da come si propongono sui social no? La Ferragni ha qualche pecca in più in che senso? Nel senso che ostenta troppo i suoi averi non solo abiti firmati per cui e più delle volte riguardano sponsorizzazioni ma lo sfarzo dei suoi beni mostra cabine armadio gigantesche, centinaia di vestiti e scarpe, case di proprietà lussosissime mostrate nei minimi dettagli, le vacanze nei migliori hotel d'Italia e di dovunque insomma un po' tanto un po' troppo. Resta comunque il fatto che sicuramente in questi giorni Chiara Ferragni è in una situazione molto spiacevole e sta versando molte lacrime in questo periodo che possiamo definire veramente negativo per lei se possiamo dire e insomma come si dice anche i ricchi piangono no? Poi c'è il mondo della gente comune che quella è tutta un'altra storia che insomma può essere un po' difficile per Chiara Ferragni da capire altrimenti non ostenterebbe così tanto. Comunque resta il fatto di questa mano tesa di Belen in questo messaggio che adesso vi andiamo a leggere. Sono un po' di giorni che ho un pensiero ricorrente ed è quello di sentirmi in colpa per aver avuto dei pensieri impuri. Provo a spiegarmi meglio. Quando qualcuno ci fa del male cosa vuoi che quella persona paghi? Che la vita le restituisca la stessa moneta. Ecco in queste ultime settimane per svariate motivazioni pensieri del genere hanno avuto vita dentro la mia complessa testolina. Con il senno di poi vi dico che dopo la rabbia arriva la calma. Ecco questo è accaduto pure. Sono calma. La tempesta è passata. Tutto ciò per dirvi che come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l'accaduto su Chiara Ferragni con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei ma questi sono dettagli. Quello che volevo dire in primis è che oltre la stima professionale c'è anche l'umanità. E vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina da donna e mamma mi sento di dire basta. Sicuramente ha sbagliato ma adesso lasciatela in pace. Merita un po' di serenità e soprattutto quello che è accaduto non può oscurare tutto quello che di bellissimo ha fatto. Basta violenza verbale. Torniamo ad abbracciarci. Tutti possiamo sbagliare. Tutti possiamo sbagliare la strada. La cosa importante è aver capito, rimediare e tornare più forte di prima. Forza Chiara Belen